buongiorno buona giornata buon martedì 29 settembre 2020 penultimo giorno di questo mese siamo quasi alle ore 11 e 30 bene parliamo della Puglia Trani colei che vedete nell'immagine di copertina del video è la giocatrice Perez che ha contribuito alla grande nella grandissima vittoria della Coppa Italia per la Puglia Trani che ha vinto 7 a 2 in quello di Crotone Perez 5 gol come anche coloro che hanno messo a segno gli altri due gol e adesso però ecco dalla fonte da cui attingo quindi a parte questo successo questa domenica 4 ottobre allo stadio comunale di Trani ci sarà la sfida decisiva contro il lescio salendo women's soccer come vogliamo chiamarla che appunto a pari punti con le tranesi sarà una sfida decisiva perché la vina colei che vincerà passerà il turno e andrà avanti nella competizione quindi ridò la linea allo studio ribadendo la Puglia Trani domino gioca vince e convince e domina a Crotone nella prima gara dei mini gironi di Coppa Italia vincendo 7 a 2 grazie a tutti ci vediamo domani per un nuovo video ciao ciao